Ci troviamo lungo la provinciale 11 e lungo l'Arno e siamo proprio nella fase della realizzazione della rotatoria all'altezza dell'ingresso di San Giovanni Valdarno. E' il terzo lotto che comprende i lavori che interessano la provincia per questa variante. Questo lavoro importante di adeguamento della strada regionale 71 sta procedendo nonostante le difficoltà e in particolare il terzo lotto che è quello di cui stiamo parlando, che è un investimento importante finanziato dalla regione toscana per oltre 8 milioni di euro, entra a partire dal lunedì nel vivo. Infatti sarà chiuso sostanzialmente questo tratto di SP11 lungo l'Arno che va dal chilometro 12 più 420 al chilometro 14 più 165 nel comune di San Giovanni Valdarno per consentire la realizzazione del terzo lotto. I lavori dureranno circa 4 mesi fino al 14 di agosto per consentire l'esecuzione di questi lavori e effettuare delle modifiche alla circolazione. Quindi si entra dentro San Giovanni, si bypassa questo tratto? Innanzitutto ci sarà l'istituzione del divieto di transito dal chilometro 0 più 100, cioè l'inizio del centro abitato della Penna, al chilometro 2 più 155, il bivio per la strada comunale di Monte Marciano. Ci sarà l'istituzione del divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, nel senso di marcia con direzione Santa Maria alla Penna al chilometro 2 più 155, bivio appunto del Monte Marciano, al chilometro 6 più 450 all'accesso alla discarica. E sarà previsto un limite di velocità a 30 km orari dal bivio della strada comunale di Monte Marciano alla strada comunale di Persignano. I percorsi alternativi per i veicoli provenienti da entrambe le direzioni sono rappresentati 1 dalla strada provinciale 1 di Sette Ponti, dalla strada comunale di Monte Marciano, dalla strada comunale di Persignano-Malva, dalla strada comunale di Piantravigne, 2 dalla SP5 della Penna, dalla SP59 Valdarno-Casentinese, dalla SP11 Lungolarno e 3 dalla SP5 della Penna, dalla SP59 Valdarno-Casentinese, dalla strada comunale 69 e dalla SP8 di Botriolo. Dal divieto sono esclusi tutti i residenti che hanno la casa appunto nel tratto compreso e dopodiché saranno autorizzati alcuni dei camion in direzione alla discarica e presso la Polizia Municipale dell'Amministrazione Comunale di Tiranova Bracciolini si potranno valutare poi anche singole necessità legate alle attività produttive, legate a comunque ridurre al minimo i disagi dei cittadini.